Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video flash nel quale volevo solamente condividere con voi una nuova promozione di Amazon. Infatti da ieri 29 novembre fino al 5 di dicembre tutti i clienti potranno usufruire della consegna standard gratuita senza alcun importo minimo di acquisto utilizzando il codice promozionale ricevi gratis al momento del pagamento. La promozione si applica a tutti gli articoli indicati come spedito da Amazon nella pagina delle informazioni del prodotto ed è valida per milioni di articoli senza alcun importo di ordine minimo, comprese le migliori da regalo come i giocattoli e l'elettronica, nonché gli articoli per la casa, la moda e davvero molto altro. Inoltre il codice promozionale può essere utilizzato più volte per tutta la settimana della promozione ricevi gratis. Come al solito per maggiori informazioni vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Detto questo non mi resta che augurarvi un buon fine settimana. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Gianni.